Strade di luce, strade magiche e fuggitive lanciate veloci sull'appia deserta. Ognuno ha una storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, tante le parole per l'altra gente. Possono volare le idee. Bisogna avere un cuore grande per viaggiare, così grande da contenere tutti i volti che ti sei dimenticato. Perché quando viaggi, più che andare verso una meta, vai verso un destino. Il tuo. Il tuo. Il tuo. Il tuo. Il tuo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.